Qual è il bilancio del primo trimestre 2016 per la vostra società? Nonostante i mercati turbolenti che abbiamo avuto nel 2016, nei primi tre mesi, gennaio, febbraio e marzo, i flussi nei ETF sono stati positivi. Questo perché ci permette di fare un'analisi. Quando i mercati vanno bene, qualsiasi tipo di asset allocation va bene, riesce a performare. In situazioni in cui c'è un mercato altamente volatile, un mercato difficile, allora là è importante fare una buona asset allocation, il che ovviamente significa scegliere il giusto paese su cui investire, saper fare la differenza tra corporate Europe e corporate US o addirittura anche all'interno di uno stesso indice, sto pensando per esempio al Giappone, andare a scegliere l'indice giusto, quindi il Nikkei 2250 o il Topix o il MCI Japan. Tutto questo è possibile tramite gli ETF. Questo è la dimostrazione del perché i flussi sono stati positivi in questa fase turbolenta, perché alla fine l'ETF è lo strumento essenziale sia per i gestori professionali per fare un'ottima asset allocation, ma anche per le persone in retail. Avete da poco lanciato un innovativo prodotto Smart Vita. Quali sono le caratteristiche di questo prodotto? Un'altra caratteristica di fare una buona asset allocation è utilizzare anche l'innovazione, indici nuovi, prodotti nuovi. Negli ultimi due anni la novità è proprio l'utilizzo di strategie Smart Vita. Noi come Amundi ETF abbiamo sin dal 2014 iniziato a emettere ETF con strategie Smart Vita, alcune delle quali, come l'ultima che abbiamo emesso due settimane fa, strategie fatte in collaborazione con le DEC Risk Institute, che sono strategie che utilizzano diverse strategie, diversi fattori Smart Vita insieme, creandone alla fine un unico indice. Questo permette di cavalcare e di performare bene in situazioni di mercato come quelle che stiamo vedendo ora, di alta volatilità, è di diversificare il portafoglio in termini di indici che si possono utilizzare per una buona asset allocation.